Vado a fare un'altra missione di suicida Missione di illuminazione O di illuminamento Dici ma perché devi fare queste cose malvagie? Dico Non lo so Alla fine non hai preso più questi cuori Che dove erano? Non lo so dove erano Ma mo ci vengo, ma vengo No non entrare adesso Dove? Oddio quanto Quanta roba Ma considera che c'era anche Ho messo a fare il cerciole e non l'ho preso Il cerciole Aha ho trovato una fonte di viridium gigante Aha Ho trovato il Però sto illuminando tutto in modo che quando muoio Non risponde spawnano i sti cazzo di mostri di merda Ecco Ok Vieni con me dove sei? Sono già giù Arriva 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 Sto andando il mio cerciole Arriva 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 Conteggere, amore. Questa. Eh? Chissà se sono rispawnati adesso, visto che tu sei in elbinit. Possibile. Ammazza quel figlio di Troy. Attacca, attacca. Allora. Qua stanno... Aspetta. C'è un figlio di puttana che bovola. Ma c'è un buco lì, eh? Bugo, chi è? Eccolo. Chi busca, mo? Ok. Allora. Dicevamo. Qui. Ah. C'è la peste, comunque, attenzione. È vero. Ah no, mi ha quasi finito. No, mi sa che fortuna non funziona su sti cosi. Qua. Che cazzo sai? Ti ho perso. Qua, 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 qua. Oh, sono tornati i bianchi pavoni, che bello. Bello. Cioè io oggi sono stando a peste agli animali. C'è Stefano, c'è Stefano, 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 c'è uno spawner di goblin, penso, eh? Posso prendere il viridio? Eh, ma c'è il viridio, c'è il... C'è tutto. Eh, ho capito. Guarda quanti ne sono! Ok. Erano tutti quelli che erano spawnonati a me probabilmente. Eh, vabbè. Adesso non ho le frecce per ammazzare... No, no, l'arcomi si stava pinendo. Ah, è chi è warrior e quindi adesso ho sbicciato la spada. Allora, tu la spada. Ok, allora. Affancuro, sono incastrato. Prendi sto viridio. Eh, magari potessi. Ah, è chi è incastrato? Poi c'è un altro buco. Un buco. Andate, picchio, con la tua stessa arma, bastardo, che non fa danno. Potrei avere... Ok. Aiuto. Aiuto. Arrivo. Per cazzo stai? Questo è il buco. C'è il diridio, no? Il buco. Tu dove stai? Affanculo. Prenderemo qualcosa da tagliere. Poi, ho un altro. Bastard in me. Ok, tagliere. Ancora. Ok, dicevamo. Oh. Di qua. Di qua. Guarda sto bastardo, guarda. Pugno, questo stuatro è bellissimo. Lavoro. E sto rumore. Che cos'è? What? È tipo il buio. Ando pure io. Non lo so, ma... Prendi questo... Oh! What the fuck! Che? Non lo so, una mano viola mi è venuta davanti la faccia. Cazzo. Ha tipo frizzato tantissimo quando l'ha fatto. Vabbè, prendi sto cazzo di minerale di merda. Questa! Qua, oh, qua. E ci sono anche dei diamanti. Come? Qua. Qua, qua, qua. Perché si mette davanti? Sì. Meno male che mi ero depositato tutto. Ora sono pure... Oddio! Oddio! What the fuck! Sta succedendo! C'è qualcosa... Quella cosa che fa... A un certo punto dice deep dark. Esce una mano. Non lo so. Mi sto cagando sottissimo. Prendi diamanti e scappo. Ma che cazzo c'è da? C'è quello, 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 c'è quello... Via, 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 via. Amazon è bugato il... Il chunk, eh? Via, 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 via. Mi sto cagando sotto. Via, 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 via. Ok, i chunk non funzionano più. Fai gli F3A. Eh, non funziona. Come? Ah, devo buntarlo il chunk. No. Si ricarica tutti i chunk F3A. Allora no, non funziona. E chi le ha rotto? Celulo è log. Ok, ho 32 fottuti diamanti Io me ne vado quella mano che vedevo Quarco Vabbè, riprendo la mia roba e vi risalgo No, ho preso la capra Capra Hai ripreso tutto? Sì Riprendo io Ma dove sei tu? Io te Sei un po' È tutto un po' bugato a me Oddio, aspetta Sì No No, mi ha fatto purissimo Stavolta me lo so Mi ho preso la capra Con quale laggata però Marco, sai cosa ho sognato stanotte? E mo' ci ho pensato Nei capra? Che tu venivi da me Per fare Japan Crate A Roma, augurio Nessi A Roma Che? Che tipo Vieni, ciao, ciao, ciao E tipo, c'avevi un Una corda Mi ha attaccato quel toro che hai portato qua dentro Madò E infatti questo che sto facendo da quando sono in tutto il dodge Sto tirando via animali No Ma nonna Mia nonna Allora Deep Dark qua Io direi Che Adesso che abbiamo Mitrile, Diamanti, Cazzi, Mazzi E Parapatti Parapunti Ponzi Ci possiamo mettere Tranquilli Per un attimo Meno Io sicuramente Ok Siamo ufficialmente in vacanza Oh Stefano, vieni La ragazza ha portato i suoi frutti Tu stai Vabbè, scendi giù per la scala Oh Olè You need 5 xp levels Ok Porco Eh vabbè, vuol dire che lo farò Allora Questo non lo sapevo Poi Eh Troppo Ah Vaffanculo Fire charge le metto Sembra nei drop Sì Sì E non c'è No, nel nether Nel nether Qua qua Dov'è il nether Dov'è Lingots Minerali Creative Music Disc Eh, c'è il baule A fianco di Totem Se mi sbaglio Continua a spawnare Ai Mai Bellissimo Cos'è successo al mondo Così L'abbiamo popolato Armi Questa è tua A fianco di Totem Vabbè, sai che c'è tutto il resto È male Ah, ma che ce ne ho Che ce ne ho Tutto Smistiamo un po' di roba qua Così posso mettere altra roba da smistare Non so dove va Stava qua Così me li prendo io Ma l'orologio di chi era? Mio, mio Ti, ti, ti Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Ti rivedo l'ora Non vedevi l'ora No, 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 no Parto la musica di chi non calma Ecco dove stava quest'altro Vieni qua Ah, io c'ho un'idea Io posso fare la farm Io ho potenziato la mia fornace Puoi fare? Le farm Ok, sai come devi farlo? No Non lo farò Ok Se c'è un modo per farlo Allora no Anche gli slime stanno spawnando Come gli slime? Sì Subito, dove sono? Vabbè che ce l'abbiamo le ele Quando stanno? L'ho appena ucciso Ok È la viola comunque Questo sta diventando parecchio strano Ma anche le rane Di là Vabbè Meglio così Le rane? Forse perché abbiamo appiattito Le rane? Sì, di là però Non qua, di là Verso gli alberi Stefano vuoi andare a vedere la Aether? Solo ve Ok Come se fosse arrivata la stagione De fertile Fertile Alberto vuoi vedere lo zoo? Nato ma Vabbè già lo vedi qua fuori Però quello che ho fatto io È verso il zoo Dov'è il coso dell'acqua? Uh c'è l'uovo Ok Dov'è il coso dell'acqua? Qui vedi Ma non si vede Ma c'è l'uovo In questi bianchi E in questi blu Anche c'è l'uovo Hai visto? Ecco qua Chi è? No Che succede? Che succede? Marco scusa Tu non l'hai acceso così Altra volta il portale? Sì Perché Ho un piccolo problema Mi hanno scavato sotto i piedi Cosa? Ma è morto questo Che ha fatto? Oh Dorme Ha stato ormai E l'altra volta Ho messo il secchio là sopra Hai usato il secchio di ferro? Sì Ah Ce l'hai appresso? Sì Ah ok Vallo tu Vallo non zaffare le moto Ti vedi qua Vieni qua Ti vedi Ti vedi Ah ok Ecco Merda Addio Vabbè quando vuoi vedere lo zoo sta là Ma è un libro io Non toccate le uova lo zoo Eh potrebbe essere uova Sanno Ma le scale le avete fatte voi? Sì sì Cioè in realtà Ho fatto io il cestino E loro hanno depositato Sì E' proprio bravi Io sto vedendo delle robe mistiche qua Noi abbiamo esplorato solo dove siamo uccisi con le scale e basta Abbiamo Ci sta una palla che sicuramente è un dungeon Ci sta robe e cose Madonna A chi si spaventa? Sono forti i nemici? Non sappiamo che i nemici ci sono appena siamo scappati l'altra volta C'era tipo un mini enderman Tieni Marco se ti può servire questo è per scavare Via Veloce 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 Scavare Solo? Sì solo veloce Scavare robe e cose Una vianda Marco Sì? Che cazzo è quello? Tadà Uno scheletro Un orologio Mi fai le zuppe? Questa? Sì esatto 5 euro Che cazzo è una balena che vola? Sì ti spara le palle di neve Che però non ti possono colpire perché spara le palle Ok c'è un'arpia No davvero? No Beh questi magari quando dormono sembra che sono morti però Sì perché posso I pavoni almeno si Cioè gli animali si accosciano Come si dice? Ok Bravi Si accosciano Si accosciano Eh Sono bene Che cazzo sei tu? Un wigt 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 Affan Ti dà frozen e slownest Quando ti si avvicina E niente più Oh si avvicina manco se ti attacca Sì solo quando si avvicina Oh che cazzo mi ha sparato? Sto giuando Ah hai preso fuoco bruttana di merda Ma chi è che mi sta sparando? Sto cazzarello Ma tu mi stai sparando? Ma abbiamo neve? Chi vuole uno smoothie Alla Faccia via All'anguria Come l'hai fatto a fare? T'ho guardato lo stesso Che bello E' più bello da vedere che da mangiare Ma tu ancora c'è Pietra qua dentro Stai? Mi sei stancato? No No Sto continuando La torre Cioè oggi la torre non l'ho toccata più a niente Ci vado solo ora Ma cos'è che mi attacca? Ah è lui E allora E' lui Che brava così innocente Oh ma ho ucciso Chi ha messo della terra sulla torre? Ma che cosa mi sta colpendo? Che cos'è? E' stato inebriato Ehi Ah boh Ah avete messo la terra per salire sopra? Eh si E che mangano le scale Ma che cazzo Aiuto Ma dove sei? Dentro casa E che ci sta? Niente Ah T'ho prenditi questo Se no che se muoio Ah ok Finito Finito l'effetto Ah forse quando tocchi un keller Un cracker Un cracker E' quella roba lì C'è un uovo di Pea Fowl Esatto Quello che non dovevo prendere E rimetticelo Perché E non si può C'è provato? Sì Non le importunare troppo Non vorrei che Però l'ho provato a rimetterlo ma Mi sa che una volta che lo prendi ci puoi fare le frittate Cos'è? Oh E se mi fai un'armatura Forse posso andarci senza morire Non vicino ai miei pavoni Intanto vado E porca miseria Oddio E' andato a dormire Niente la prossima volta allora E' andato a dormire Ok Uova e bacon Come quelli del pavone Che mi hai dato? Niente Mi sono passato davanti Ah ok Che è questo? E' un'altra Inforging E' questo qua E' una cosa per cuocere la roba Basta a cattacosa Basta a cattacosa Allora C'è un problema con le casse Si stanno rinviando Tipo con la deadropped Questo chi l'ha messo? Ma no Ma ogni tanto qualche blocco a casa Ecco chi è stato Loro I pavoni hanno bisogno Di più spazio Ma non è il momento E vado sulla torre E quindi si Servirebbero delle casse In più per il drop Per il cibo Per i semi E uno per gli animali Perché sti pavoni Ti preoccupavo Ci penso io Vai vai E se no inizia a buttare roba Per te Eh esatto Le vomito Corre Ma donna ma donna E se no inizia a buttare roba Per te Oddio, un nuovo ragno Un nuovo ragno Un nuovo ragno Che cos'è? Allora, sta Perché da questo po' vedo tutto Dietro la casa Nell'angoletto dove stanno gli alberi Vai dritto, 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 dritto Dritto, 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 dritto Ancora dritto, sta davanti a te Sono zoni Oltre Witch spider Bello, c'è una X Sì, oddio Ha dato la close Ottimo Dicevamo Sono bloccati con buco Vabbè buco Che breve Ciao, Giovanni Ciao, Giovanni è un po' qua un po' là su cadute sono fatte male? e passo le verifiche di sms pure c'è un problema, c'è una carenza di carbonella ma c'è il carbonella un po' fatto un po' quello è un pipistrello o un uccello? ah, un pipistrello, pure i pipistrelli, ma è come se si fosse risettato il mondo è successo qualcosa dai, vi sta che sono citi dal ragno ah, c'è un altro ragno secondo me devi leggere, secondo me dopo un tot giorni succede, non vedo più niente no, dopo un tot di cose dopo quando facciamo cose, io ho tipo scavato, ho fatto l'armatura di diamante e ho bloccato altra roba a nascere gli animali può essere una magic shield 2, 14 di armor toughness what? what? non so che significa ma sta armatura è da dio speravo di trovare delle nuove casse, le faccio io ops sono i buchi sono i buchi? eh, tutto casa eeeh course of breaking, ma vaffan ma vaffanculo dai, ma che merda è uscita lunar shield lunar shield no, che brutto il sospetto metti tipo che brutte forme forse voglio il tipo vabbè, non so se sento i sim stronger version of protection was strength is affected by current modern phase ok figo una shield 3 fai fu di sopra io direi di no bella merda, bella merda ma hai già finito ah, be di qua giovanni no, spero no ho fatto i livelli nooo si può togliere questa pietra con la moss? si può togliere la moss? mi sa di sì moss perché? per farci la stone la cobblestone no, non puoi no, non puoi cacca vacca e se la cuocio che succede a questa? puoi cuocerla no, non puoi no, non puoi no, non puoi ma ah, ratatouille 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 sono scemo c'è un ederman saluuuut sta un attimo scemonendo ma perché piove? no ma chi sta scemonendo? allora capre il vostro momento o dormite e dormono sveglia dopo l'ora vengo domani domani? no stanno dorme dico alle capre dormono no stanno dormendo spesso Ah, e dovevo prendere l'uscola? Vediamo se ci riesco Dove l'ho messo? La cosa per le luccele Oh, ma che cosa l'ho messo? Ah, ecco Oh, che cura Oh, che cura è? Oh, che cura è un po' di livelli Veloce L'ho vista una, eccola Dai, spicciate Eccola Come cacchio si catturano? Forse sto sbagliando io Non si catturano così Ma che cosa? Le luccele Ma quelle che vedi Quelle palline bianche e gialle Che vedi in giro la notte? Sì Ma quella è solo una particella No! Eh, come? Eh? Come ti fanno a prendere allora? Come so Eh, sì Eh, di fatti un baule per i fluffy pluffy Oh, tanti Eh, per un parecchio spazio Capre, pronte? Vai! Ora siamo Trova a ballare La legale Vuoi covate? Covate, covate Vuoi govid? Sai che ti dico? Pure oggi Abbiamo dato Esattamente Qua c'era un po' di roba qua Ok, fa tempo Abbiamo dato E poi Cinzia che ci vuole nella vita C'è entro un ragno qua dentro casa È il Joan Ah, ho imparato pure il ragno, mo Ma quello impara quello che c'ha vicino Vedi che c'è stato un ragno vicino Eh, appunto È virgola Fazzano a vedere Oh, antipatico Ma chi? Otti Torno Eh, è uno slime rosa È capito assaggiare Però, a quanto pare, non servono a niente Non si sa che stagione siamo E non serve saperlo Ripeto Eh Gli sono slime rosa Questa è una cosa buona e giusta E anche un calamelonde Che posso prendere E anche un calamelonde Grazie a tutti